Martina Lucena è rifatta? Uomini e donne, Martina Lucena è rifatta? La verità VinZuiden Martina Lucena si è rifatta le labbra? La foto sui social, le accuse degli utenti e la versione dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Martina Lucena è tra le protagoniste di Uomini e Donne più amate sui social. Sono tante le ragazze che la seguono e che, quotidianamente, le dimostrano il loro affetto nei messaggi e nei commenti lasciati sotto i suoi post. . Le stesse, come spiega Martina in una sua recente Instagram Stories, le hanno segnalato una foto che da diverso tempo gira su internet. Nell'immagine incriminata ci sono due scatti diversi della Lucena messi a confronto. . Nella prima, in particolare, le sue labbra appaiono sottili mentre al contrario, nella seconda, le stesse sembrano più carnose e gonfie. . L'accusa principale di chi sul web ha fatto rimbalzare la foto sarebbe principalmente una, e cioè, Martina si sarebbe rifatta le labbra. . L'ex di Uomini e Donne però a queste insinuazioni risponde e, con un video, espone la sua versione dei fatti. Nessun ritocco, spiega la Lucena, ma solo una questione di prospettiva. . . Nella prima foto, infatti, la stessa ha il viso rivolto verso il basso, dunque, per questo motivo dice lei, le sue labbra apparirebbero più sottili. Nella seconda immagine, invece, solo l'inquadratura diversa avrebbe contribuito a far apparire le stesse più grandi. . . Martina Lucena, ritocchi sì, ma solo alle foto di Instagram. Non è la prima volta che Martina Lucena affronta il tema ritocchi. . Ha detto fatto infatti, ospite di Caterina Balivo, aveva spiegato alla presentatrice come spesso lei stessa ricorresse a delle piccole modifiche post-produzione prima di caricare le sue foto sui social. Dietro le immagini postate dalla Lucena però solo tanta pazienza. . . E Martina in persona infatti a lavorare alle sue foto che, come spiega nella sua comparsa a Rai 2, se non sono scattate da lei, sono spesso fatte dal suo fidanzato o dalla sua mamma. . . . . .